Con noi oggi Ivano Martinetti, consigliere comunale uscente al Comune di Alba per il Movimento 5 Stelle. Bentrovato! Buongiorno a tutti! Martinetti, lei è candidato alle regionali, ma qual è stata la sua esperienza da consigliere comunale nel Comune di Alba? Beh, è stata un'esperienza gratificante per quello che mi riguarda perché sono riuscito a far passare 21 proposte e emozioni ogni giorno su oltre 30 presentate. Ho presentato anche 150 interrogazioni in questi 5 anni, quindi è stato veramente un lavoro importante, un lavoro importante che io ho potuto portare avanti anche grazie al supporto di quello che è il gruppo Alba che mi dà una mano e dal quale è uscito il nominativo del candidato sindaco che avrà così il compito di portare il lavoro. Qual è stato il percorso che l'ha portata oggi a volersi candidare per le regionali? Ma io non lavoro da solo, un lavoro così non si può fare da soli, faccio parte di un gruppo che ho il piacere di guidare, diciamo così, e se in questo gruppo è nata questa decisione di far fare un altro percorso a me, visto l'esperienza e il lavoro che ho fatto, potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto in un consiglio regionale. Mentre per contro c'erano persone che potevano sostituirmi in maniera più che adeguata e dopo una serie di votazioni interne al nostro gruppo, perché abbiamo ancora la buona abitudine di fare delle votazioni trasparenti, sono nate queste decisioni. Martinetti, se lei diventasse consigliere regionale, come vede il suo lavoro nel futuro? Io intanto mi auguro che si vincano le elezioni perché vogliamo rappresentare un cambiamento vero e credo che il nostro candidato presidente Giorgio Bertola sia la persona più indicata per portare avanti questo cambiamento. Di lavoro ce n'è veramente tanto da fare, è una regione che è stata così un po' massacrata, se mi passate il termine magari un po' duro, ma che rende veramente l'idea di quelli che sono i conti della nostra regione Piemonte. Da tutte le forze politiche che sono già state lì più volte e che si ripropongono a loro volta come un cambiamento. Quindi noi abbiamo delle situazioni da risolvere imminenti che non possono più aspettare assolutamente sulla viabilità, sulla sanità, su quello che è tutto il comparto del turismo che in tante zone è trascurato. Io vengo da Alba, dalla zona delle Langhe, da noi è stato fatto un lavoro diverso, ma credo che questo modello possa essere trasferito anche ad altre zone. Qui parliamo della regione Piemonte, non parliamo solo di un paesino. Quindi di lavoro ce n'è e ce n'è tanto, ma abbiamo un buon programma e sono fiducioso che se riuscissimo a governare finalmente noi questa regione potremmo far vedere quello che siamo in grado di fare. Ringraziamo Ivano Martinetti, consigliere comunale uscente nel comune di Alba per il Movimento 5 Stelle, candidato alle regionali. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.